Lo Sporting Bellinzago sbanca a Borgaro faticando soprattutto nel primo tempo ma poi diventa tutto più facile quando al quinto del secondo tempo Baldi sblocca la situazione così calcio di punizione perfetto all'incrocio dei pali per l'uno a zero e al ventunesimo il raddoppio sempre del secondo tempo cross basso di Visciglia, Tos sottoporta, tocca per il definitivo 2 a 0, Borgaro 0, Sporting Bellinzago 2 Grazie 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 Grazie